5 novembre 2019 siamo membri degli altri dalla lettera di san paolo posto dai romani capitolo 12 fratelli noi pur essendo molti siamo un solo corpo in cristo e ciascuno per la sua parte siamo membri agli uni degli altri abbiamo doni diversi secondo la grazia data ciascuno di noi che è il dono della profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede chi ha un ministero attenda il ministero chi insegna si dedica l'insegnamento chi esolta si dedica l'esortazione chi dono lo faccia con semplicità chi presiede presiede con diligenza chi fa opere di misericordia le compie con gioia la carità non sia ipocrita detestate il male attaccatevi al bene amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno gareggiate nello stimarvi a vicenda non siate pigri nel fare il bene siate invece ferventi nello spirito serviti il signore siate lieti nella speranza costanti nella tribolazione perseveranti nella preghiera condividete le necessità dei santi siate premurosi nell'ospitalità benedite coloro che vi perseguitano benedite non maledite rallegratevi con quelli che sono nella gioia piangete con quelli che sono nel pianto abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri non nutrite desideri di grandezza volgetevi piuttosto a ciò che è umile c'è una tensione nel cristiano che spesso diventa disequilibrio a seconda dell'accentuazione che viene data tra due elementi che sono contrastanti opere o fede volontà o passività grazia o conquista se va respinta la riduzione della nostra fede a una morale comunque non si estingue il dovere di agire moralmente in altri termini il dovere essere del cristiano suppone una forza che dovremmo avere per il dono dello spirito santo eppure c'è una parte che noi dobbiamo fare con sforzo cioè entrare per la porta stretta qui nel brano della lettera ai romani risuona il dovere essere secondo lo spirito ma l'esortazione è appunto uno sprone a vincere noi stessi sicché dobbiamo confessare che ci troviamo spesso nell'ansia di dover fare ed essere secondo un modello che è sempre superiore alle nostre forze san paolo comincia proprio dicendo che abbiamo doni per grazia e questi sono differenti per ciascuno tuttavia nonostante l'infusione di spirito dall'alto noi rimaniamo deboli e incapaci se non attraverso uno sforzo per vincere il nostro egoismo la nostra pigrizia la tiepidezza la superbia l'indifferenza vi è pertanto la contraddizione dei doni ricevuti che però chiedono lo sforzo del loro esercizio riceviamo lo spirito di dio ma rimaniamo noi stessi in quanto a egoismo e ingratitudine abbiamo l'amore di dio ma rimaniamo peccatori contro la carità verso dio ed il prossimo così in noi vive la grazia ma rimaniamo con le spinte al peccato dio si salva ma siamo ancora in pericolo la sua forza potente non permette che noi periamo ma possiamo dannarsi comunque siamo destinati alla salvezza ma possiamo tradire il nostro salvatore l'amore il primo comandamento costituisce la forza di dio immessa in noi ma chiede di essere accresciuto con il suo esercizio l'aumento della carità corrisponde al nostro desiderare di aumentarlo ma ancora una volta la nostra volontà è obbligata ad incontrarsi con un aumento del dono da parte di dio poiché il desiderare o il volere non bastano ad essere più capaci di amare e che dire del fatto che lo stesso desiderio di amare proviene da dio a cosa si riduce dunque il nostro io il nostro volere se anche questi dipendono da dio eppure in noi è un principio di individualità che ci rende differenti siamo altro da dio pur provenendo da lui e siamo altro rispetto a tutti gli uomini pur essendo parte di un'unità fratelli pur essendo molti siamo un solo corpo in cristo ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri il mistero dell'individualità pur essendo parte di un corpo ci rimane difficile poiché la nostra individualità si fonda sul fatto di avere una testa centro del pensiero e del senso di identità e non possono dire lo stesso le altre parti del nostro corpo perciò ci risulta duro capire cosa sia cristo capo e noi sue membra poiché percepiamo la nostra individualità rispetto al campo che è cristo e rispetto agli altri uomini con la conseguenza dell'antagonismo e della separazione il mistero dell'unità del corpo mistico che non ha nulla le nostre individualità ma le sottometti in armonia ad un unico capo è il punto della nostra lotta contro il peccato che infonde lo spirito di divisione e di autonomia per cui ciascuno elegge a se stesso il conflitto proviene dal peccato che regna in noi e distorce le realtà create da dio la nostra individualità cozza contro il senso dell'unità tra noi in dio eppure lo stesso modello lo troviamo nella trinità tre persone tre volontà che si accordano in un unico volere di amore e creazione anche noi siamo chiamati a questo ed il prezzo è la rinuncia all'autonomia solitaria cioè l'egoismo dio vi benedica